Le ultime notizie da Piemonte e Valle d'Aosta, tutti i giorni su Rece 7, alle 19, in seconda serata alle 6 del mattino, con l'Informa 7. E' semplice, è per chiunque, è Internet ovunque, va una favola, ti connette tra le stelle, non ti serve l'ADSL, ti danno la parabola e puoi navigare subito a 3 mega e 6, è 2 way, 2 way, 2 way, Internet per tutti. La musica, lo sposo, l'informazione, con Radio Veronica One, sei protagonista, vedi, da numero 1. Sintonizzati sul divertimento, Radio Veronica One, la differenza, l'ascolti. Hai appiccato quell'incendio, no amico, io non credo nella...